non pulirlo via sto nocciolo è aperto su questo è aperto su qua dai dai su metodo gargamella e vai e no è giù ancora allora dai 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 su bravo così mi piace adesso è spostato tutti gli inviti faccio anche io uguale uguale no metto la quarta adesso qua non conviene entrare perché ci impaltiamo tutti perché volevo andare su ma finché non si indurisce un po' sotto arriva fino alla rotonda dove giriamo sopra esatto arriva fino a là però noi sopra facciamo un altro sentiero c'era se non ce l'hanno distrutto era alto possiamo fare il pezzettino poi torniamo giù e scendiamo giù a metà vedremo guarda che esempio che ha fatto qua qui la prima acqua esagerata che viene là va via tutta anche questa viene via e si intoppa tutta lì si si vedrai hanno tolto tutte le piante figaro lì in giù tutta quindi andiamo andiamo in giù andiamo in giù pietro in su vediamo che si era stessato un po' ma ha tolto tutti gli inviti eh chi ha tolto tutti gli inviti perché è tolto tutti gli inviti perché mi stanno sui coglioni bisogna rimetterne sotto uno e li ha sgarlati via tutti lui prima non è riuscito a saltar su questo va bene questo va bene buon ora va bene così è passabile aspetta l'affetto l'affetto wow è troppo rotto è troppo rotto l'ha buttato anche da mangiare per le mucche l'ha buttato se hai mica la mucca tu se hai la mucca la porti a mangiare a mangiare per le mucche l'ha buttato anche da mangiare per le mucche